Un'altra volta purtroppo abbiamo avuto un altro errore nelle zone basse del campo che ti hanno punito. Ma sono contento per il fatto che la squadra dalla partita precedente è cresciuta e migliorata. Sappiamo che ancora dobbiamo migliorare tanto in alcuni aspetti, però penso che dobbiamo bloccare quella strada che abbiamo fatto sabato e crescere. Speriamo di fare un bel lavoro per arrivare sabato e finalmente arrivare ai tre punti perché penso che è un gruppo che ha bisogno di una vittoria, di sbloccarsi perché sabato secondo me c'è stata una bella partita del gruppo e ci è mancato il risultato. Io credo che comunque questa settimana qua si può fare bene e sabato speriamo i tre punti che ci dà una mano. Io ancora non sono contento delle mie prestazioni, dico la verità, perché comunque mi sento ancora rimorchio, sembra che ho rimorchio ancora dietro e non va bene. Però io ho già parlato col prof e stasettimana qua cercheremo di lavorare un po' più sulla brillantezza perché a certi punti della partita sembrava che non avevo gambe però ci stavo. Ma non avevo quello stretto, quello che mi permette di fare una giocata per calciare in porta e per fare un'azione da gol. Grazie. 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 Grazie.